Salve ragazzi, sono Adamska. Dopo aver raccontato gli avvenimenti della Virtuous Mission, mi sono lanciato sull'operazione Snake Eater. Un episodio lungo e intricato, che mi ha obbligato a dividere le video in due parti. Scopriremo il vero ruolo di The Boss, i piani segreti orchestrati dai filosofi, le varie coperture di Ocelot e soprattutto il destino di Snake. Ovviamente trovate i link ai video nella descrizione. Di nuovo il mio invito a mettere mi piace alla pagina videogames Generalita, alla mia personale pagina Facebook e ad iscriversi al mio canale YouTube. Commentate sempre i video, consigli e critiche costruttive sono le benvenute. Supportatemi e sopportate.